me lo fate leggere Antonio me lo fate leggere che cos'è che cos'è andò che cos'è ma che c'è ma circolano volantini anonimi per caso Antonio me lo fai leggere e dai fai fra e leggiamolo insieme ma che cos'è è una lettera e fammelo inquadrare io lo inquadro solo ma lo devi inquadrare dove si vede il titolo fammi vedere pure il titolo il titolo lo posso dire la scuola guida di Francesco no voglio inquadrare il titolo intanto sarà una fesserina il titolo è la perché ho sbirciato il titolo è la scuola guida di Francesco non lo so se ha dei collegamenti politici in questi giorni di fermento a solo paga eh sui giorni di fermento in questi giorni di fermento a solo paga quel titolo veramente sono giorni di fermento ma sa che è Aristanova lì questo sicuramente non fa parte dei fermenti è un piccolo il presidente lo mette in tasca lo esibirà parliamo di cose serie parliamo di cose serie voi dell'amministrazione Antonio voi dell'opposizione no no della maggioranza scusa perché avvinte la elezione voi della maggioranza ma Flò ma perché tu lo portai a chi sono proprio a voi dell'opposizione ma tu dove lo portai l'opposizione beh immagino tu stai Antonio l'opposizione 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 Antonio è una figura istituzionale non appartiene né alla maggioranza né alla minoranza non potete capire o no? esatto è presente voi della maggioranza e qui no ma gira sto cosa è facile non girare prendi fatta cosa è una figura istituzionale non appartiene né alla maggioranza né alla minoranza ma da dove è stato estramolato dalla minoranza o dalla maggioranza la maggioranza è uscita dalle urne e allora è dalla maggioranza è uscita è uscita è uscita è uscita è uscita come allora Antonio vi volevo chiedere voi che meritate di essere la maggioranza va bene? voi che sareste la maggioranza voi che siete la maggioranza va bene è uscita ma è uscita è uscita come bene una piccola non vi faccio la maggioranza non vi faccio ma è ancora buono ecco è uscita 200 eh buono Voi che siete la maggioranza Lascia quello che hai lo puoi lasciare pure a casa Elio è un giorno triste o è un giorno felice questo che chiude il barrio di Rolande Elio vuoi partecipare all'intervista? Facciamo un giorno triste o felice? Non ci tengo Eppure che non ci devo Non sono fotogenico Però una domanda da poter fare Ma che non so? Ma non vanno a farlo Dice che non vogliono dire che giro Ma che non sa? Mi fai inquadrare il gioco Non ci fai inquadrare a chi? La scuola guida Com'è? La scuola guida di Francesco Dai figliatini Grazie Oh il lodo Signori fate un saluto Poi ce la ti dà un secondo Ehi chissà Per un bocca al berlusco No Chi è? Chi è? Guardi la Allora Quando facerà Quando facerà No ma dalla figlia La figlia Sì Grazie non è l'individuo non è l'individuo un buon mavero che la teneva notata un buon mavero scusa Adriano chi è un buon mavero? un sammese un buon mavero chi è un buon mavero? era Buonanimi e Perugio Maurizio Lorenzo Abbamondi cosa ha nominato? ha zappato e che ha zappato Adriano? erano questi volontini anonimi penso lì ma mi ha fatto nome e cognome lì non ti preoccupare ci sei manca l'erro stiamo tutti di casa facciamo una giu cioè il bolognese era una cosa difficile ma non vuol dire che tutti quanti c'erano tutti quanti c'erano basta tranne in genuale lino lino si c'erano che è un buon mavero che è un buon mavero ma c'è una cosa stridata chiude il bar di Rolando Dante allora innanzitutto lino complimenti per queste iniziative che servono per conservare la memoria la memoria del nostro paese quindi ti faccio i complimenti te li rinnovo te li faccio sempre te li rinnovo ci vorrebbero più persone come te che si impegnano no io volevo associarmi a ricordare questo bar io faccio parte della generazione giovane ho 30 anni quindi io sono più giovane di questo locale però mi ricordo quando ero un bambino che mi ci portava il mio papà lui si metteva lì a giocare a kart con i suoi amici e io che ero più piccolino andavo a giocare a videogioco ai videogiochi che erano di là scusami poi mano a mano che andavo avanti con l'età iniziavo a giocare alla carambola poi al bigliardo poi giocavamo con le freccette insomma passavamo toscorrevamo io e i miei coetane i nostri pomeriggi in questo bar all'epoca si doveva fare la fila per poter giocare a qualcosa perché era veramente pienissimo era il crocevia di tutta tante generazioni tra le quali la mia veramente ci siamo radunati molte persone qui ma siamo nemmeno un quarto di quelli che frequentavano abitualmente questo bar in questo momento sono qui e siamo tutti quanti dispiaciuti da un lato certamente poi ci sarà un giovane che rileva questa attività quindi io vi faccio i miei auguri a questo ragazzo che accetta la sfida Sebastiano che accetta la sfida di cercare di restare a solo paga fare commercio a solo paga così come si chiamava il nonno che era il vecchio proprietario del bar che era il vecchio proprietario del bar ma tu quello non te lo ricordi? no io sono dell'83 quindi mi ricordo sempre Fonzino il caro Fonzino che mi rimproverava a tutti noi ci rimproverava quando giocavamo col bigliardo quando eravamo più piccoli perché il bigliardo si era la stecca e si poteva giocare dai 14 anni in su e mi ricordo tutti quanti gli scherzi anche che gli facevamo le partite del Napoli quando sognava il Napoli e che Alfonso era contentissimo festeggiava insomma mi ricordo tante cose va bene grazie tante grazie a te grazie a te